La generosità era la benvenuta nell'invito degli organizzatori, non si è fatta attendere, la gente di Andrea ha risposto e nella centralissima Via Regina Margherita, trasformata per una sera in un teatro glamour, ha fatto sentire forte la presenza, anche in termini economici. Moda e solidarietà è un binomio che funziona da queste parti, il palco è solo un pretesto per fare del bene a chi lotta ogni giorno contro il dolore. La causa è di quelle buone raccogliere fondi per l'Anti Italia Onlus, l'Associazione Nazionale Tumori. L'obiettivo è sostenere la delegazione locale che aiuta chi combatte una battaglia, senza esclusione di colpi, contro il male del secolo. Via Regina Margherita come Via Condotti a Roma o Via della Spiga a Milano, padrona di casa la giornalista del TG Norba 24 Francesca Rodolfo. In passerella, o meglio sul palco, sfilano le collezioni primavera-estate. C'è anche l'intimo per gli occhi di chi sa apprezzare, uomini o donne che siano. Anche i bambini fanno la loro figura, adesso mascotti, in futuro chissà, anche loro sui palcoscenici che contano.